Giuliano, è ora di alzarsi. Sono sveglio, madre. Signore Lina, sei stato tu, perciò. Non so come abbia fatto, ma l'ha soldato tuo zio. Questo prova con ragioni. Se ora mi uccidi, sei il primo che i priori verranno a cercare. Le strade pullolano di gente che chiede il sangue dei medici. Giuliano! Portatevi lì e a me. Chi ti ha fatto questa? Pazzi. Come cavoli in questo? Ora è libero di contemplare Dio. Che cosa pensate di fare? I day non portano i vestiti. Non riesci a portarti. Però c'è. Sfito. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dov'è? Se mi avete fatto del male, vi uccido. Io sono tuo. No. No. No, 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 no. 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 No, no, no.